Le sequenze di insegnamenti di macchine che sono stati fatti con una profonda incoscienza determinata sia dalla giovinezza sia forse anche dal momento storico in cui forse erano permesso delle cose che poi ho scoperto che non si dovevano fare. Insomma a Milano in realtà i permessi di alcune sequenze, in particolare girate dalla Citroen che si incappotta e finisce contro l'albero, in massima parte erano girate senza neanche i permessi per bloccare la città, quindi in realtà in alcuni momenti grazie alla grande capacità tecnica degli stenterm che affrontavano queste sequenze in realtà si poteva rischiare qualche incidente anche molto grave. Accenno a questo argomento perché in realtà le armi del nostro cinema spettacolare che ovviamente adesso sicuramente vedendo gli effetti speciali che ci sono oggi sembrano tutto sommato molto ingenue, allora erano competitivi con gli americani perché giocavamo la pari, cioè loro facevano le stesse sequenze magari con dieci macchine bloccando le strade quindi curandolo ancora meglio, noi li facevamo con molta improvvisazione però in realtà l'effetto finale di questo film sul pubblico, lo vedo che è un film che incassò allora un miliardo e mezzo di lire che non era poco in quel momento storico, parliamo del 1974 quindi praticamente un incasso, insomma tra quelli che era forse tra dieci e decimo incasso dell'anno, non forse sarà stato il tredicesimo o no, non lo so, però voglio sottolineare questo che in quel momento storico il nostro cinema era competitivo anche con quello americano, nel senso che venivano acquistati questi film in tutto il mondo sia dagli Stati Uniti che sia da tutti i paesi che in realtà fuivano della cinematografia italiana, perché? Perché ovviamente la spettacolarità sicuramente meno importante che si vedeva nel cinema americano era comunque accettata da tutto il pubblico del mondo e per cui gli uffici delle società italiane erano spesso volentieri piene di persone che venivano dall'estremo oriente, dal Medio Oriente, dalla Sud America eccetera e comprano questi film, perché in realtà, l'ho scoperto dopo, il meccanismo era questo, che al prezzo di un film americano se ne compravano 5 italiani dello stesso tipo, per cui il produttore che veniva dall'estremo oriente diversificava l'investimento e forse rischiava di meno, perché se potenzialmente, non sarà sicuramente successo, l'ispettore Calaga non fosse andato bene in uno di quei paesi sarebbe stato un flop e una perdita diretta di tutto l'investimento suo. Se Milano trema e gli altri 5-6 film che facevano i registri della mia generazione, forse uno andava benino, quindi praticamente non rischiavano molto. Poi purtroppo, alla fine della metà degli anni Ottanta, cosa è successo? Il cinema americano ha avuto a disposizione una tecnologia che noi non sapevamo neanche come si potesse fare con il digitale, quindi di conseguenza abbiamo perso quel treno da quel momento storico. Io l'ho dato intorno al 1985, il nostro cinema di genere che è stato la vera linfa della cinematografia italiana e appunto a poco forse anche per il mondo. Io ho fatto però uno dei miei ultimi film che è stato acquistato nel mondo, è sicuramente stato 2019 dopo la Ducatica di New York che ovviamente al pari dei film americani era comico perché noi facevamo con gli effettini fatti con i figli, insomma adesso non voglio entrare nel momento, mentre gli americani stavano già facendo delle cose che noi non sapevamo nemmeno. Però voglio dire, a livello epidermico, anche se ha creato a me in uno stato d'ansia quasi costante, quel tipo di cinema ti metteva di fronte a vivere grandi emozioni, perché oggi l'attuale cinema è spettacolare, viene fatto in assoluta sicurezza e che è molto meglio, per cui se c'è un'esplosione probabilmente l'attore che sembra che sia me in un'esplosione non c'è perché viene fatta con una sovraimpressione successivamente. Allora se l'attore passava attraverso il fuoco o la controfigura dell'attore che passava attraverso il fuoco, era lui che lo faceva, oppure se uno stentman si lanciava da una finestra ebbe nel vuoto ed era salvato ovviamente da un accrocco creato da scatole di cartone e materassi e praticamente se fosse uscito da quel quadrato che dall'alto vi assicuro sembrava piccolissimo, sembrava piccolissimo e praticamente poteva rischiare la vita. Quindi c'era forse questo vivere il cinema con molta più angoscia e però anche tutto sommato più adrenalina, quindi tutto sommato in un'età giovanile era anche piacevole evoiverlo. Adesso probabilmente non sarei più in grado di farlo perché sarebbe veramente stressante, però in realtà dava un sapore a un tipo di cinema che in fondo tutto sommato aveva anche la capacità dell'improvvisazione. Hai parlato troppo? No, senti che differenze c'erano tra i tuoi quali zieschi e quelli per esempio di Enzo Castellari o di Umberto Renzi? Umberto Renzi da Milano Trena ho preso per il Milano Orvia, ho avuto delle sequenze che ho seguimenti animati, perché era un sapore di Pallomaro, quindi io mi dici come... Sì, le cassette incendiate sono... No, ma c'è anche la sintone che finisce contro l'acqua, quindi praticamente io ho risparmiato un po' di angoscia. Però allo stesso tempo era un tipo di cinema, Castellari l'ha fatto molto bene, poi aveva anche lui, lui forse ancora più di me, amava le sequenze di azioni. Io tendenzialmente quando ho fatto film d'azione ho sempre cercato qualche volta, nei limiti ovviamente di un racconto che sotto certi aspetti poteva essere anche, diciamo, stereotipo, ho cercato di valorizzare anche qualche volta i sentimenti, adesso non fate competizione con nessuno, non si è mai, però... Sì, qualche volta c'è un... faccio un esempio, un merito che mi riconosce Quentin Tarantino nel mio film 2019, l'opera 2 di New York, e mi dice che c'era una geniale idea che lo manipolo di eroi che entra in New York distrutta dalle bombe atomiche, della guerra tra un paese credo che era fatto dagli euro-arab, quindi c'erano un premonitore di quanto poi in realtà è successo con la caduta delle doppie gemelle, era perché andavano a recuperare l'unica donna fertile che era ibernata in un sotterraneo, che quindi dava all'umanità la possibilità di poter rigenerarsi, perché praticamente si raccontava che allora l'umanità non era più capace, le donne non erano più fertili per le contaminazioni delle bombe atomiche o ancora di pregio. E di conseguenza praticamente mi riconosceva questo sapore romantico, forse il retorico, però dava al film una dimensione che poi poteva essere apprezzabile. Questo è quanto. Poi Gatto? No, questo non m'ha fretta. grazie a tutti